A Venezia per le tue compravendite, Venice Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Anticiclone protagonista, ancora sole e caldo, ma con la stabilità atmosferica si aggrava la siccità e aumenta lo smog. Il dettaglio di giovedì 16 febbraio. Sul Veneto di mattina possibili foschie o nebbie sparse in pianura ma anche in alcune valli prealpine. Localmente potranno essere anche fitte. Cielo da sereno a poco nuvoloso invece altrove. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra meno 1 e 1 grado, massime tra 10 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso su costa e pianura pordenonese saranno possibili locali banchi di nebbia. Cielo più sereno invece sui restanti settori. Temperature minime tra lo 0 e 5 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo ben poche novità. Sarà infatti soleggiato con nubi alte in transito e locale formazione di foschie specie dopo il tramonto. Temperature minime intorno a meno 1,1 grado, massime in sui 13-15 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. A Venezia per le tue compravendite Venice Immobiliare Cera, agenzia leader.